Un gravissimo incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sull'autostrada A21 in direzione Torino, poco dopo il casello di Piacenza Ovest. Un'auto è uscita di strada terminando la propria corsa in un fossato nel campo a lato della carreggiata. Pesantissimo il bilancio, un morto, due bambini di 2 e di 12 anni gravissimi trasportati a Parma, un'anziana gravissima trasportata a Pavia e una donna ferita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale, il personale del 118 con varie ambulanze e tre eliambulanze. Lunghe code si sono formate sulla carreggiata in direzione Ovest sulla quale si è viaggiata una corsia.